Con il Presidente abbiamo parlato insieme un paio di giorni fa con l'idea di rivedersi, ma io la decisione l'ho già presa non da ieri, da oggi, ma da un po' di tempo. Ho un contratto e quindi rimango alla mia intenzione di rimanere alla Juventus perché c'è ancora molto lavoro da fare.